Per questo io sono convinto anche del sì, perché dietro a dei numeri ci sono delle persone, dietro a delle persone ci sono delle famiglie, dietro a delle famiglie c'è una storia. Io dico questo perché io sono di Somma Vesuviana, per questo amo il Sud, amo il Sud perché lavoro a Caserta, amo il Sud perché trascorro le vacanze in Salento, amo Roma perché mi piace visitare, Firenze per l'arte, Milano per la moda, Torino perché mi piace sfidarla al calcio. Però dovete darci sempre quella possibilità di sentirci tutti unici cittadini, sono orgoglioso di essere italiano, io il mio lavoro non lo lascio, l'Italia non la lascio, io credo nelle istituzioni, grazie.